Vital, Lichsteiner, Marchisio con il destro, in avanti, colpo di testa, però è tra le linee verso Biang, stringe verso il centro, Soriano va a puntare alla porta, va ancora Soriano, destro di Soriano sulla schiena di Bonucci, va ancora la Sampdoria con la conclusione, la palla è fuori di niente, ci ha provato Pedro Biang, sfera sulla sinistra di Gianluigi Buffon, la prima fiammata del match, la conclusione da lontano del centrocampista spagnolo, dal vivaio dell'Atletico di Madrid, tutto è nato dalla bomba, il Soriano contro Leo Bonucci, ha aspettato, ha calciato, una bella diagonale, il 23enne, ottima stagione per lui, soprattutto Soriano, Sturano, allontana il pallone, Silvestre, in difficoltà, Tevez lo punta, recupera il pallone, Tevez a cercare Vital, sale la Juventus col cileno, Vital va a puntare alla porta, Vital, Vital il tiro, Viviano, centralmente, prende il pallone, fiammata della Juventus, con Arturo Vital, con il sinistro, non è riuscito a trovare la porta, Viviano, sicuro, in presa, che bella la giocata di Arturo Vidal, ha sbilanciato con la fine, il pallone sradicato, ma recuperato poi da Vidal, con l'esterno per a Llorente, Llorente ancora, largo sulla destra, si propone Lichsteiner, dentro a saltare Fernando, Lichsteiner, col mancino dentro, attenzione, colpo di testa, e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, con Arturo Vital, al minuto numero 31, Sampdoria 0, Juventus 1, Arturo Vital, pallone perfetto, sul secondo palo, lo stacco, è il cileno di Santiago, e Amarazzi è cambiato il punteggio, al minuto numero 31, Sampdoria 0, Juventus 1, un gol, bellissimo, di Arturo Vital, che ha incrociato il pallone, sul secondo palo, un colpo da miliardo, da parte di Arturo Vital, Juventus in vantaggio, ma che pennellata, assolutamente meravigliosa, per Arturo Vital, che va a battere il 5 a tutta la panchina, cross con il contagiri di Lichsteiner, posizione regolarissima, Vital, sul secondo palo, fermo, immobile, Emiliano Viviano, Sampdoria 0, Juventus 1, Vital, e questo è un gol pesantissimo, pesantissimo, Ottavo centro, in stagione per Vital, tra campionato e coppe, settimo, in campionato, molto, molto importante, 35, il pallone, attenzione, il Silvestre, a cercare Muriel, 3 contro 4, Muriel si butta dentro nel varco, Muriel dentro per Soriano, Soriano, conclusione, sul secondo palo, in ritardo, Samoletto, non era un passaggio, era un tiro in porta, provato il diagonale, sfera che termina fuori, da aver visto la conclusione di Roberto Soriano, quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, verso Padoin, il pallone, può andare a correre su quella corsia, un po' in ritardo Soriano, Marchisio si guarda alle spalle, dall'arrivo di Berghessio, Marchisio si butta lui in avanti, il tonco, Sturaro, Sturaro su terra, verso Tevez, Tevez ancora, Tevez in tiro, e la grande parata da parte di Viviano, che mette in calcio d'angolo, un gran diagonale, e grande parata di Viviano, una bella azione, questa è la Juventus, il tocco di Sturaro, per Tevez, l'ha fatta scorrere, poi la stretta dall'altra parte, intervento di Viviano, davvero strepitoso, d'applausi, terzo calcio d'angolo del match, Muriel rientra sul destro, Muriel ancora, sfera dietro per Eto'o, di fronte c'è Marchisio, Eto'o, pallano dentro nel corridoio, Berghessio, Berghessio di nuovo per Eto'o, il vincestoriano, Berghessio, palla alta, tutto un dialogo nella O, stretto per la Sampdoria, conclusione, sopra la traversa, alla conclusione di Eto'o, tra pericolosa, stoppata da un suo compagno di squadra, Tevez, attenzione all'errore di Vidal, Eto'o, va a puntare la porta, dentro a cercare Berghessio, 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 Berghessio il tiro, palla alta, con il miracolo, la deviazione vincente di Bonucci, ha fatto un miracolo, vale quanto un gol, la deviazione di Bonucci, straordinario, sull'errore dietro di Vidal, ripetiamo il tutto, Bonucci un miracolo, miracolo davvero del numero 19, che toglie un gol praticamente fatto, a Gonzalo Berghessio, la grinta del capitano, da complimentarsi con...